Mister Marmorini del Vasto Girardi, dopo il pari nel recupero con la Forza Embronese, è arrivata questa sconfitta nello scontro diretto con il Real Monterotondo, puniti e una disattenzione in avvio di ripresa, poi il forcing finale non è bastato. Sì, abbiamo fatto un primo tempo dove siamo stati bravi a gestire la palla, probabilmente non abbiamo sfruttato abbastanza le situazioni che ci sono capitate negli ultimi 30 metri, potevamo essere un po' più lucidi, soprattutto su un paio di attacchi laterali creati dalla zona di Caon, però non abbiamo corso pericoli e abbiamo gestito abbastanza bene la partita. Nel secondo tempo chiaramente il gol preso in avvio su pallana attiva ci ha un po' condizionato, ci ha fatto venire un po' di frenesia, non siamo stati più lucidi e abbiamo creato situazioni chiaramente più per nervi che per lucidità e onestamente se vogliamo proprio analizzare quello che ha proposto il campo meritavamo assolutamente il pareggio, però se esci dalle ultime partite ogni volta non ottieni il massimo da quello che ti propone la prestazione probabilmente qualcosina ci sta mancando dal punto di vista dell'attenzione e della capacità di sfruttare anche gli errori degli avversari e su questo dobbiamo assolutamente lavorare perché non possiamo permetterci di fare buone prestazioni e non arrivare mai al risultato e concedere sempre qualcosa e quindi dobbiamo sicuramente ancora crescere e poi pensare di poter fare tutte le prestazioni come abbiamo fatto col Fossombrone o a San Benedetto è difficile. Siamo stati leggermente sotto tono rispetto a quelle prestazioni e siamo incappati in una sconfitta. All'orizzonte alla trasferta di Notaresco, credo lavorare maggiormente sull'aspetto mentale più che la prestazione. Sì, perché comunque dal punto di vista di campo secondo me stiamo lavorando piuttosto bene ci sta mancando qualcosa nei primi 30 metri e negli ultimi 30 metri dove probabilmente la palla ha un peso specifico diverso e dove nei primi 30 metri dobbiamo essere, perlomeno quelli difensivi, dobbiamo essere un pochino più attenti e un pochino più cattivi a livello agonistico e negli ultimi 30 metri dobbiamo essere più decisi e forse anche un pochino più liberi mentalmente. Grazie. 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 Grazie.